Ottenere sgravi fiscali, abbattere i consumi con riduzione delle bollette, aumentare il valore dell'immobile ma anche migliorare l'ambiente e la qualità della vita nel territorio di Fano da oggi fino al 2020. Saranno diversi benefici del programma sugli edifici intelligenti che verrà presentato giovedì 15 ottobre alle ore 9.30 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. Dopo il lavoro organizzativo che ha coinvolto molti uffici comunali, il convegno pubblico sarà un'occasione per la cittadinanza di unire le forze insieme agli enti e le aziende per combattere la crisi a scala locale con un utilizzo dei fondi europei. Saranno coinvolti gli amministratori di condominio, le aziende immobiliari, architetti, geometri e ingegneri. Sono invitati inoltre tutte le banche del territorio. Vorremmo stilare con loro un protocollo dove aderire, se volessero intendere essere partner di questa iniziativa oppure aderire con delle iniziative anche a favore di coloro che fanno queste riqualificazioni energetiche nel territorio, negli edifici del comune di Fano. Nel programma dell'amministrazione fanese c'è la copertura con fotovoltaici al Palazzetto dello Sport Salvador Allende, al Bocciodromo di Ponte Sasso, ma anche la sostituzione di luci a LED negli impianti sportivi, al Teatro della Fortuna e alla Memo. Il progetto che coinvolge anche le associazioni di categoria, il mondo imprenditoriale, la ZSPA, ha l'obiettivo di una riqualificazione energetica in grado di dare un impulso al settore dell'edilizia grazie ai fondi comunitari che si potranno ottenere attraverso i bandi europei. Fondamentale sarà la collaborazione con i privati. Il vantaggio per il comune della loro partecipazione è che aumenta la quota di finanziamento che può essere richiesto alla comunità europea. Il vantaggio del privato sarà fare degli interventi di riqualificazione sul proprio bene dal punto di vista della riqualificazione energetica che ne aumentano i valori immobiliari, che abbattono le bollette. Stiamo parlando di interventi che riguardano cappotti, cambiamento di infissi, cambiamento degli impianti, sostituzione dell'Eternit, coibentazione del tetto, pannelli fotovoltaici. Poi ci sono i riferimenti normativi, tutto quello che riguarda la riqualificazione energetica, perché quelli sono i finanziamenti che possono essere messi insieme ai fondi pubblici per richiedere i finanziamenti europei. La pianificazione sugli spazi urbani del comune, cioè le aree dove si deciderà di intervenire di anno in anno, dovrà essere conclusa a metà 2016, dopodiché verrà avviata l'attività dell'ufficio finanziamenti europei e sarà creato un altro ufficio apposito a cui potranno rivolgersi i cittadini per avere maggiori informazioni. Verranno fatti dei bandi con tutta la definizione di quali saranno i vantaggi per loro, su quali aree si interverrà e che tipologia di lavori fare, a cui loro dovranno rispondere per mettere a disposizione le loro fatture già preventivate, su cui loro già hanno deciso di investire, e aiutare il comune a partecipare ai bandi europei.